Un cordiale benvenuto da parte di Fabio Garesse e Beppe Bergomi a questa finale di Coppa. Le squadre stanno entrando in campo, manca poco ormai all'inizio. La partita di oggi è davvero impegnativa per loro. Non avranno vita facile contro questo avversario. Il fischietto di oggi non ama particolarmente il gioco maschio, anzi tutt'altro. È famoso per il polso con il quale gestisce le partite. Comincia il match per il Manchester United. Tenta di portarti via al pallone. L'arbitro ha concesso il vantaggio, strano no Beppe? Già, ha spazio, prova il tiro. Omar. Pallo laterale per il Manchester United da buona posizione. Cross in mezzo. Si in possessa dello... Sicurissimo il portiere che va alla presa. E' il gol! Balla in nette! Occasionissima! Ha perso palla dopo essersi involato verso la porta. Prova! Fatto a blocco. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. 1-0 alla fine del primo tempo. Sicuramente i due allenatori avranno dato indicazione ai propri giocatori durante l'intervallo. Vediamo cosa cambierà nell'assetto tattico delle due formazioni in questa ripresa. Omar. Valencia. 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 Ruben Miquel. Ruben Miquel. Gara molto combattuta. Impossibile adesso azzardare un pronostico. Un gol strepidoso. Da posizione quasi impossibile. Una marcatura che potrebbe anche risultare decisiva. Destro. Scarica sul compagno. Tino! Palla ribattuta ma ancora in gioco. Occasione in vista. Tenta! Sorpasso importante. Ora possono festeggiare. Ora staremo a vedere se saranno capaci di gestire questo vantaggio e sorpresa. Gli avversari sembrano trastornati. Colpisce la palla di testa. La palla è ancora lì. E il difessore ferma l'azione. È da solo. Questa è un'azione pericolosa. Che gol! Sleddite avete! Ci sono due gol per lui. Grande partita. Ha freddato il portiere con questo tiro preciso nell'angolino. Splendido il gol. Runei. Pallo al piede. Circa i compagni. Di testa. E cominciano a tirare la disperata. E la finale si chiude qui. Sono campioni. Sono campioni. Hanno giocato una grande finale dintonecatamente. Ora possono esultare con i propri tifosi. Siamo giunti alla fine. Spero vi siate divertiti. Arrivederci da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Dopo il a ciò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.